Vedete questi scheletri nell'armadio? Questi mob nell'armadio? Beh, sono proprio loro che oggi verranno uccisi da questo cannone e ovviamente non ci sarà solo questo di cannone, ma ce ne saranno altri. E so che sembra strano, ma questo spara letteralmente verdure, cioè nel senso ortaggi, cioè guardate. Cioè è assurda questa cosa, non è normale. Cioè qualcuno dovrebbe arrestare chi ha pensato questo. Sto scherzando. E può lanciare anche patate. Patate. Perché, signori, avete pensato di mettere, non lo so, di fare un cannone che spara patate e carote? Qual è il vostro problema? Adesso però cercheremo di uccidere i mob, ovviamente dalla giusta distanza, e partirei con lui. Perché, ahia, e non ti permettere, è lui il primo. E guardate che è difficile, guardate che... Ah, stron... Madonna mia, quante te ne direi ora... Oh, bene, sei morto. Ora, tecnicamente, mi posso avvicinare, non al creeper, perché se no, per carità, guardate. Vabbè, ovviamente, lo sapete già. No, non esplodere, per carità. Ero letteralmente convinto che stesse per esplodere, raga. Ho detto, oh mio Dio, adesso questo qua mi distrugge tutto, così imparo a fare tipo l'antipatico con lui. Vabbè, intanto muori. Perfetto, devo dire. Beh, devo dire che questo cannone, a parte che non ha senso che dei mob muoiano con delle patate. Però, credo che possa essere, boh, quantomeno interessante. E ovviamente questo è con la mod. Adesso ve lo dico, perché, giustamente, io lo so, certo che lo so. E' chiaro, no? Create, però... Aspetta, can, ok. Come potete vedere, con la create, sì, sì, sì. C'è proprio scritto cannon. E poi c'è un altro cannon, questo, che però questo qua è diverso. Allora, questo qua non spara... Razzi, o quello che, caspita, sparano i cannoni. Ma spara delle schematic. Cioè, tipo, voi mettete, caspita, ne so, una schematic di una casa o di un castello. E ve lo lancia e, praticamente, ve lo spara in una certa direzione. Cosa che io non farò, perché non credo sia utile in questo caso. Però, se vi interessa, boh, scrivetemi nei commenti, chiaramente. Magari ci possiamo fare, tipo, dei video. Anche, tipo, dei video troll a qualche mio amico, tipo, Ehi, guarda, perché stanno apparendo queste strutture nel mio mondo? Sarebbe divertente, ora che ci penso. Sarebbe bello. Scrivetevi se volete vedere questi video troll, eh? Sarebbe molto bello. Questa è la classica della Cryfish. E, vabbè, ovviamente tutti sapete come funziona. Aia, mi ha spaccato i timpani, mannaggia a lei. Chiaramente adesso proveremo anche quelli più esplosivi. Vabbè, questi sono i classici, no? E non sono cannoni, ma questo... Questo è un lanciagranate. Potrebbe essere effettivamente considerato come un cannone. Questo è un bazooka. Beh, avete visto che è bello. Per me ci sta troppo. Poi, secondo me, credo sia anche aggiornata questa. Vabbè, poi, vabbè, queste cose. Poi, secondo me, anche con queste armi ci possiamo fare un sacco di cose nuove. Tipo, mi viene in mente una serie di sopravvivenza con le armi, eh? Tipo, che ci... Che tipo arrivano dei mostri e abbiamo solo le armi per difenderci e non abbiamo tipo la spada o le robe. Ma queste armi qua ci potrebbe stare. Si chiama ovviamente Mr. Cryfish Gun, questa mod. Per me ci sono un sacco di cose nuove.